Sì Presidente, dal generale torniamo invece un attimino al particolare, quindi ad un intervento specifico, il PUP di Viacomo, un tema sicuramente che ai me e tutti conosceranno, anche questa è una ferita aperta nel cuore della nostra città da diverso tempo e un tema che anche qui abbiamo affrontato in commissione diversi mesi fa. Il tutto se la situazione non è cambiata ma mi risulta di no, stanto quanto appunto è emerso anche durante la seduta dell'epoca, ad oggi siamo fermi, siamo arenati su questo intervento perché manca la revisione tecnico contabile dell'intervento che è propedeutica poi a sbloccare quindi finalmente la sistemazione superficiale del parcheggio che ricordo comprende una palestra, un impianto sportivo e che ad oggi è ferma a metà da, se non vado errato, circa una decina d'anni. Quindi anche qui una ferita da risolvere quanto prima, chiediamo uno sforzo all'assessore di lavorare di concerto con i dirigenti che so che stanno lavorando su questo tema per sbloccare finalmente questa revisione tecnico contabile dell'intervento che ahimè altrimenti ci tiene bloccati su questo intervento da ormai troppo tempo. Grazie.